Siamo in compagnia di Don Lorenzo Pernice, il parroco della chiesa di San Vincenzo a Postiglione nell'occasione della festività di Sant'Anna. Parroco ci illustri su come è andata la festività qui nella sua parrocchia. Dopo due anni di pandemia riprendiamo e abbiamo ripreso un'altra volta la processione del carro di Sant'Anna per le zone della nostra comunità parrocchiale. Però anche tutta la celebrazione di martedì 26, il giorno di Sant'Anna e San Gioacchino, abbiamo celebrato Sant'Anna e la famiglia e il Vescovo ha portato proprio questo esempio soprattutto di Sant'Anna come nonna la tenerezza di Dio, ecco per tutti i suoi figli. E allora è una grande gioia per noi riprendere la festa di Sant'Anna e non soltanto religiosa ma anche ludica perché dopo due anni di pandemia dove non si è potuto fare e stare insieme, non si è potuto fare la festa. Oggi posso dire che grazie a Dio e ai collaboratori si è potuta realizzare questa bellissima festa che ringrazio già tutti coloro che hanno partecipato, il comitato e anche l'amministrazione che è stata vicina alla nostra festa parrocchiale. E allora grazie a tutti e viviamo sempre bene questa festa, sempre meglio durante gli anni che si succedono per realizzare sempre di meglio per la nostra zona perché San Vincenzo a Postiglione è una parrocchia di periferia, non sta al centro torre, però siamo torresi, però abbiamo la nostra caratteristica di parrocchia e come parrocchia di periferia si apre a un quartiere vasto, immenso, tante case, poi tutta la litorania e questo ci fa pensare una cosa che ancora oggi la gente ha bisogno dello stare insieme e di fare festa intorno ai Santi. Ecco, domenica si è conclusa la festività con la processione per le strade della statua di Sant'Anna. Cosa si sente di dire, un messaggio al suo popolo, alla sua parrocchia? Grazie alla gente che ha colto il carro di Sant'Anna, l'immagine di Sant'Anna e che è antica tradizione portare per le strade l'immagine di Sant'Anna perché Sant'Anna è la madre e la mamma di tutte le mamme, come si dicono, in napoletana si dice è a vecchio potente perché è miracolosa e allora la gente ha colto Sant'Anna come ogni anno e dico accogliere Sant'Anna nelle proprie case e accogliere Maria e accogliere Gesù perché Maria ci ha portato Gesù Cristo. Allora a tutte le famiglie della nostra parrocchia, della mia parrocchia dico aprite il cuore sempre ai Santi perché i Santi ci portano a Gesù che è la salvezza di tutti noi. Grazie a tutti.